ehi ciao a tutti benvenuti al primo appuntamento del caccia talk il format per scoprire tutte le curiosità sul salame cacciatore italiano e mi sto preparando perché oggi ho un ospite d'eccezione sono pronto me la presento ciao sarà benvenuta ciao simone grazie io ti giuro un sacco di cose da chiederti sul consorzio cacciatore italiano quindi andiamo sul divano pancherino allora io sono felicissimo di averti qui perché innanzitutto voglio parlare con te dell'importanza che ha il consorzio quindi parto subito il consorzio a livello di ruoli e funzioni cosa fa il consorzio cacciatore italiano è stato costituito nel 2003 tra i compiti principali del consorzio abbiamo la tutela la valorizzazione la promozione di questa dopo sia in italia all'estero e questo si concretizza da una parte realizzando attività che hanno proprio lo scopo di illustrare spiegare quali sono le caratteristiche le peculiarità di questa dop e dall'altra lottiamo contro ad esempio la frode la contraffazione per garantire il consumatore e renderlo sicuro del fatto che sulla propria tavola porterà sempre l'originale il consorzio si occupa anche di seguire tutelare le fasi di produzione per rispettare il disciplinare il documento che racchiude tutte le indicazioni che devono essere le norme che devono essere seguite rispettate per produrre questa dop quindi è completo parte dalle zone di produzione sono elencate le 11 regioni italiane alle quali si può produrre questa dop si parla delle materie prime che possono essere utilizzate tutte queste fasi della produzione sono controllate da un organismo di controllo approvato dal ministero delle politiche agricole alimentari forestali che vigila proprio nelle aziende nelle fasi di produzione e si accerta che vengano seguite tutte le norme wow quante belle cose che fate mi piace ma adesso che ti ho qua ti devo fare una domanda forse un po più storica mi spieghi qualcosa di più sul nome cacciatore rifacendoci all'epoca degli etruschi probabilmente era l'alimento che portavano i cacciatori nelle loro bisacce durante le battute di caccia perché era piccolo facile da trasportare facile da consumare e soprattutto era già ricco di proteine e sali minerali che potevano ridare le energie che venivano perse durante la battuta di caccia e da qui probabilmente il loro nome è geniale cioè tascabile nutriente era già moderno e i tempi antichi io non ti nascondo che con tutte queste curiosità sul salame cacciatore italiano e sul profumino che arriva da lì io pensavo di offrirti un piccolo assaggino un brindisino così concludiamo in bellezza questa chiacchierata volentieri ci spostiamo di là va bene ok prego Sara prima di fare il brindisi dico io un segreto quando mi suono il campanello quando ho un ospite all'improvviso non è che mi metto a cucinare faccio degli abbinamenti ok siamo in stagione primavera estate io ho preparato giusto due assaggini per te voglio provare assolutamente ok e arrivi la degustazione wow che belli fantasia un coltello un tagliere l'aperitivo lo risolvi bellissimo con un bel effetto ottico serviti pure che io devo fare un'altra cosa ovvero parlare con voi e ricordarvi di essere presente anche al secondo appuntamento del nostro cacciatore perché parleremo di una cosa davvero importante ovvero la filiera controllata l'aspetto noi mangiamo anzi facciamo un brindisi al consorzio